Uno dei dibattiti più conosciuti nella storia della fede cristiana è quello tra la fede e le opere. Contano di più le opere o conta di più la fede? Conta di più il nostro aderire alla dottrina di Gesù, il nostro riconoscere che Lui è il Filo di Dio, il nostro confessare che Lui è il nostro Salvatore, o il nostro agire secondo i Suoi comandi, di il nostro mettere in pratica la Sua parola. Secondo i Vangeli, e soprattutto secondo il Vangelo di Luca che stiamo leggendo, le opere sono la manifestazione concreta della fede. E fin qui non ho detto niente di straordinario, perché persino la tradizione protestante vi dirà, ma i nostri fratelli nella fede non cattolici vi diranno che sì, si viene salvati per la sola fede, ma le opere sono una conseguenza della fede, un frutto della fede. Perciò, in un certo senso, le opere rimangono sempre indispensabili. La verità nei Vangeli è che le due cose difficilmente si possono distinguere. E vediamo perché. Cominciamo dalla parabola che Gesù racconta e che riprende le fila del discorso che abbiamo fatto finora. Può un cieco guidare un altro cieco? Domanda retorica. Si tratta di una parabola in realtà. Un cieco non è guida di nessuno. Se diventa poi guida di un altro cieco, come va a finire? Lo sappiamo, è inevitabile, lo possiamo immaginare. Di che sta parlando Gesù in realtà qui? Sta parlando sempre di voi, beati voi, amate i vostri nemici. Cioè Gesù si sta rivolgendo ai suoi discepoli. Nella mente di Luca che scrive, Gesù si sta rivolgendo alla sua comunità, ai credenti, alla Chiesa, alla Chiesa primitiva a cui Luca scriveva. Il passaggio per l'Evangelista è immediato. Il Gesù che sta parlando alla folla in quel momento, nel momento, diciamo, del racconto, nella cronologia del racconto, è lo stesso Gesù che sta parlando ai discepoli, alla sua Chiesa. E cosa sta dicendo? Guardate di non diventare guide cieche degli altri. E questa idea dell'occhio, della guida, della luce, è una metafora che torna. State attenti a non farvi maestri degli altri. Ho capito io. So tutto io. Arrivo io e ti dico la verità così com'è e tu zitto. Luca sta parlando, e ha ben presente qui, dei conflitti che ci sono nelle comunità cristiane, dove, nonostante l'amore, la fraternità, la condivisione della stessa fede, abbiamo delle inevitabili, ma frequenti rivalità. Rivalità che spesso sono la pretesa di salire su un piedestallo e di essere riferimento per gli altri. Anche se può essere normale che alcune persone nella comunità diventino riferimento per gli altri, per motivi carismatici o per motivi, diciamo così, istituzionali. Però non è questo l'ideale che Gesù propone nel Vangelo. Perché Gesù sta dicendo che nessuno di coloro che lo seguono deve sentirsi migliore degli altri, più illuminato degli altri, più consapevole degli altri. Chi nella comunità cristiana spiega la scrittura, racconta il Vangelo, riporta come fa Luca le parole di Gesù, deve farlo sempre con un profondo spirito di servizio. perché la guida è sempre e soltanto Gesù, è sempre e solo lui il punto di riferimento. E all'interno della comunità cristiana diventa riferimento per gli altri soltanto chi mette in pratica letteralmente questo comando di non farsi guide pretenziose o giudici spietati nei confronti degli altri. L'immagine è quasi comica. La pagliuzza è una cosa che si vede appena e che dà un fastidio nell'occhio. Ma la trave conficcata nell'occhio è un'immagine macabra, se vogliamo, talmente splatter che effettivamente pura satira quella che Gesù sta facendo. Fratello, lascia che ti estragga la pagliuzza nell'occhio con la trave. Gesù sta criticando il peccato dell'ipocrisia, che è il tipico peccato evangelico, cioè il peccato denunciato dal Vangelo, quella che in un altro video abbiamo definito anche la mondanità spirituale, cioè il fatto di fare della nostra adesione religiosa, della nostra adesione al Vangelo un'esibizione e quindi metterci nei confronti degli altri come coloro che hanno sempre da dire, sempre da insegnare, che sono migliori. Qual è l'unico vero modo di essere fedeli a Gesù, di insegnare qualcosa agli altri, di essere guide per gli altri? Non è quello di porsi nell'atteggiamento di chi con la trave cerca la pagliuzza, anzi, insomma, tutta questa metafora serve a farci, proprio a toglierci la voglia di cercare le pagliuzze negli occhi degli altri. L'altra parabola che adesso ci viene raccontata ci dice che cosa effettivamente, su che cosa dovremmo puntare. Non c'è albero buono che faccia frutto cattivo, né albero cattivo che faccia un frutto buono, ogni albero riconosciuto dal proprio frutto. La metafora vegetale, il simbolo dell'uomo come un albero che è capace di riportare il frutto, è il frutto come decisione, cioè le decisioni operate nella vita sono i frutti della vita dell'uomo. Questa idea è profondamente biblica continuamente e in molti passaggi biblici e nella tradizione ebraica si paragona l'uomo a un albero che vive e prospera vicino alle acque e queste acque sono appunto la vicinanza a Dio, la parola di Dio, la grazia di Dio, quindi si nutre quest'albero di Dio, ma i frutti che porta sono le sue scelte, ciò che lui effettivamente fa. E da qui che si vede se l'uomo è buono o è cattivo, quindi sono le azioni che diffondono bene che ci dico che l'uomo è buono. L'espressione greca è kalos, che vuol dire bello, in greco bello e buono sono due categorie che si sovrappongono, perché il buono per noi è buono in senso morale, però è anche buono nel senso del gusto, per esempio, quindi diciamo per esempio un buon piatto. bello è ciò che è buono agli occhi, ciò che è buono ai sensi, quindi bello e buono sono due categorie che in greco si sovrappongono. Qui potremmo ricordarci proprio questo, cioè che la bontà non è nascosta, la bontà si comunica, la bontà si diffonde, la bontà si sente, la bontà si odora, si gusta, si vede, si vede perché le azioni si vedono, non sono invisibili e quindi sono anche belle, essere buoni ci fa anche belli, perché fare cose visibili che gli altri riconoscono come buone è anche una definizione della bellezza. E l'uomo agisce in base a ciò che ha dentro, cioè noi non possiamo guardare nel cuore dell'uomo, soltanto Dio può guardare nel cuore, ma noi possiamo soltanto vedere ciò che viene prodotto e Dio stesso non ci giudica da ciò che abbiamo pensato, da ciò che abbiamo desiderato o voluto, ma da ciò che abbiamo effettivamente fatto. E questo che spiega poi l'insistenza di Gesù, perché mi chiamate Signore e Signore, perché dite sì che credete in me, che mi riconoscete come Signore, ma poi non praticate quello che io vi comando. E qui viene il bello, chi viene da me e mi ascolta e poi mette in pratica quello che dico, vi mostrerò a chi è simile. E c'è un'ultima parabola. La parabola del costruttore. Quindi tu puoi costruire una casa e la puoi costruire su un terreno solido, un fondamento solido su un terreno solido, la roccia. Se tu costruisci su un fondamento solido, quando arriva l'alluvione, arriva la piena, arrivano le piogge, la casa regge. Il riferimento è indiretto ma chiaro al giudizio di Dio. Il giudizio di Dio è il momento in cui si fa la differenza, si vede ciò che tiene e ciò che non tiene. Pensate al diluvio, per esempio. Il diluvio è il giudizio divino, no? Quindi soltanto chi si era preparato a questo giudizio, in quel caso Noè, che aveva fatto una barca, non una casa solida di più. Una barca solida bella grande si salva. Ecco, il giudizio finale viene immaginato anche come appunto un intervento apparentemente catastrofico, ma che è catastrofico soltanto per chi non ha un fondamento. Questo vuol dire che l'uomo è giudicato in base alle proprie azioni, perché le azioni sono il fondamento che permette alla casa di essere tenute in piedi, cioè l'uomo di superare il giudizio di Dio. Dio giudica secondo la realtà e la realtà non è ciò che hai sognato, ciò che hai immaginato, ciò che hai desiderato, ciò che hai detto. La realtà è l'estensione fisica di te, il modo in cui tu hai trasformato la realtà, trasformato le relazioni intorno a te, cioè il bene che hai fatto, le tue opere sono la realtà. perché quella è fede che diventa realtà, altrimenti è solo astratta, altrimenti è solo un'idea, altrimenti è solo un'aspirazione. Chi è con me e ascolta e pratica ecco che cos'è, è una casa che non crolla, non crolla neanche di fronte a cataglisma, non crolla neanche di fronte al giudizio di Dio. Al contrario, chi fa diversamente di fronte alla realtà della vita non regge, non regge, è lì che si fa, che si vede la differenza. Allora, insomma, per concludere, il tema dell'agire secondo il Vangelo come preparazione all'incontro con Dio è uno dei temi ricorrenti della tradizione cristiana, ma qui Gesù di nuovo in maniera molto forte ci dice ma tu che cosa stai facendo della tua vita? Quindi noi non dobbiamo preoccuparci tanto della sana dottrina anche se quella insomma ci dovrebbe aiutare a fare le cose giuste. In questo senso la sana dottrina è al servizio di una vita secondo il Vangelo cioè il giusto Vangelo ci deve orientare a fare le giuste azioni a compiere le giuste cose. Operare cosa vuol dire? Trasformare quell'amore che abbiamo ricevuto in gesti concreti in azioni in relazioni che crescono perché sono accresciute da un amore che diventa realtà che diventa fatto che non è soltanto pensiero non è solo sentimento ma diventa vita. diventa quotidianità.